Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Angelica Donati potrebbe essere incinta? Questa è la domanda che tutti si stanno ponendo dopo che sono state pubblicate delle foto che la ritraggono, mentre accarezza amorevolmente il pancino. E se fosse vero, Millie Carlucci potrebbe presto diventare nonna per la prima volta. Il 29 giugno scorso Angelica Donati ha sposato Fabio Borghese, un uomo 21 anni più grande di lei. Secondo il settimanale Diva e Donna, sembra che la ragazza stia nascondendo un grande segreto. Potrebbe essere incinta e pronta a dare il primo nipotino alla mamma Millie Carlucci. Il settimanale ha sorpreso Angelica Donati in spiaggia mentre si accarezzava il pancino in modo affettuoso. Nelle foto, la figlia di Millie appare serena con un sorriso splendente sul volto. Anche se al momento non ci sono conferme ufficiali, tutti gli indizi sembrano puntare verso una gravidanza in corso. Se la notizia fosse confermata, Millie Carlucci diventerebbe nonna per la prima volta. La conduttrice di Ballando con le stelle sarebbe sicuramente felicissima. Per Angelica sarebbe il primo figlio, mentre il marito Fabio ha già tre figli, Alessandro, Sofia e India, nati da una relazione precedente. Insomma, l'ipotesi di una gravidanza di Angelica Donati ha scatenato molte speculazioni e curiosità, con tutti che attendono con ansia una conferma ufficiale. Resta solo da aspettare. Ed esse presto Millie Carlucci Choupé.